Sono molto contenta dei risultati che ho ottenuto in questo mese, non mi aspettavo tutto questo, anche tutta questa visibilità, tutte queste interviste non me le aspettavo, però non le vivo male, diciamo che non mi metto pressione, continuo per la mia strada e per quello che sto facendo. Ancora sono nel mood che non capisco niente, quindi ancora non ho bene realizzato, probabilmente realizzerò le prossime settimane quando mi guarderò indietro e vedrò quello che ho fatto. Ho fatto più di quello che pensavo, però ancora sono in gara e spero di andare avanti il più possibile. Pensavo peggio, comunque lo staff è molto ben organizzato, le fisio ti curano i minimi dettagli e quindi mi sento abbastanza bene. Sapevo che prima o poi sarebbero arrivati perché stiamo lavorando bene da tanti anni e quindi lavorando ogni giorno e dando sempre il massimo e prima o poi i risultati arrivano. Non mi aspettavo tutto in questo momento, però sono contenta. Il mio sogno era quello di giocare i grandi slam e quello che mi piace di più, che mi affascina di più da sempre è New York e sarà anche il primo slam che andrò a giocare. Sicuramente sarà una partita molto difficile perché lei è molto in fiducia e gioca molto bene e quindi spero sia una partita lottata e spero di riuscire a portarla a casa. Io so che sarà una partita difficile dal suo punto di vista, però comunque è molto in fiducia, quindi anche lei ha delle sicurezze. Anche lei darà il massimo e proverà a vincere.